Qui si gioca e ci si diverte, qui si incontrano tanti amici, ma non solo. Ci sono persone più grandi che ti aiutano a crescere e a percorrere con coraggio una strada che è la tua, unica, irripetibile. E' anche bello! Questo è l'oratorio, è come una casa che è di tutti. Sai perché? Perché qui ha scelto di abitare Gesù. Qui impariamo l'accoglienza, il perdono, la generosità. Impariamo che cosa è la giustizia e ci sforziamo di costruire la pace, a prenderci cura gli uni e degli altri. Impariamo la cosa che conta più di tutte, il comandamento dell'amore. Come i due discepoli che decisero di seguire Gesù, Gesù allora si voltò e disse loro, che cercate? Gli risposero, maestro dove dimori? Venite e vedrete. Quei due discepoli videro dove dimorava e restarono con lui, per sempre. Ma che cosa hanno visto di così speciale? Tanto da scegliere di spendere tutta la vita dietro a quel maestro. Cercheremo di scoprirlo insieme durante quest'anno, rileggendo il Vangelo e mettendolo in pratica. Cercalo ogni giorno, nella preghiera, con l'impegno nello studio, con il dialogo in famiglia e con tutti i tuoi amici. Tu sei come il discepolo amato, anzi, tu sei un discepolo amato di Gesù. Ricordalo sempre. Lo sai chi lo ha scritto? L'Evangelista Giovanni, quel discepolo che lo ha seguito. Il discepolo che Gesù amava. Allo stesso modo il Signore vuole amare te e per te dare tutta la sua vita. Seguilo anche tu, per sempre. Vedrai che bello.